L'intitolazione si è svolta nel corso della cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale di Teramo per celebrare il giorno del ricordo. Esattamente, quest'anno in occasione del giorno del ricordo l'amministrazione comunale che voglio ringraziare nella sua interezza ha accolto la richiesta che veniva dalle associazioni il Comitato 10 febbraio, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia d'Almazia di intitolare questi giardini al dottor Giuseppe Micheletti un eroe sconosciuto, eroe della strage di Vergarolla anche questa strage purtroppo poco conosciuta una strage in cui a causa dello scoppio di alcune mine residuati bellici persero la vita più di 70 persone Anche i due figli del dottor? Esatto, anche i due figli del dottore il dottor Giuseppe Micheletti quel giorno era di turno all'ospedale di Pola e quando cominciarono ad arrivare i feriti della spiaggia di Vergarolla il dottor Giuseppe Micheletti continuò ad operare indefessamente nonostante avesse scoperto che in quell'occasione avevano perso la vita anche i suoi due figli di 6 e 9 anni quindi oggi un parco giochi dedicato ai bambini che qui vengono a giocare ad essere spensierati intitolato ad un uomo Giuseppe Micheletti che per i bambini in quell'occasione fece molto nonostante il suo dolore privato Con questa intitolazione si colma di fatto anche una lacuna perché questi giardini sono sempre stati un po' il simbolo dei tigli a Teramo ma non erano mai stati intitolati Sì, erano così e questi sono giardini ai quali personalmente sono molto legata perché comunque da piccola venivo e ci sembrava opportuno in questo contesto vicino c'è l'intitolazione ai ragazzi del 99 e il monumento ai caduti ci sembrava opportuno dedicare anche ad un eroe che si è riconosciuto purtroppo durante il periodo della triste vicenda del confine italiano nel secondo dopoguerra e quindi ci sembrava opportuno questo sito anche per la localizzazione Devo dire che a Teramo abbiamo via Norma Cossetto negli anni abbiamo intitolato via Martiri delle Foibe ma poi già storicamente a Teramo ci sono due circonvallazioni circonvallazione Spalato e circonvallazione Ragusa che ricordano appunto toponomasticamente quei luoghi